cosa serve per creare i rivoluzionari calzoncini racer servono precisione attenzione ai dettagli e innovazione serve guardare le cose con occhi diversi per trovare nuove soluzioni e calzoncini santini racer nascono da un concetto innovativo sono tagliati a mano e realizzati in italia con la massima cura nei più piccoli dettagli servono esperti designers che sviluppino prodotti in grado di integrare prestazioni e comfort i calzoncini santini racer sono realizzati con un singolo pannello questo significa meno cuciture più comfort e nessuna abrasione l'esclusivo tessuto onda è composto da una serie di linee che alternano fibre singole a fibre multiple di elastane aumentando l'effetto antiscivolo sul muscolo senza compromettere la traspirabilità serve una profonda conoscenza dei materiali ed una inesaudibile determinazione alla ricerca della perfezione così hai ciò di cui hai bisogno in un paio di calzoncini tutto incluso in un sottile strato di tessuto comfort compressione muscolare effetto antiscivolo servono anni di esperienza nella produzione di abbigliamento da ciclismo e le giuste competenze tecniche i calzoncini racer offrono supporto e compressione muscolare vestendo perfettamente la coscia come una seconda pelle senza mai spostarsi serve l'innovativo fondello nat con imbottitura anti shock in gel next ad effetto rinfrescante e micro cilindri in silicone per migliorare la circolazione mentre pedali inesaudibile determinazione alla ricerca della perfezione